Scegli oggi il tuo domani. Ciao sono Simone, mi sono organizzato all'Università dell'Insubria in scienze ambientali magistrali. Oggi ricopro la figura di campionatore ambientale per un'azienda di consulenza ambientale. La mia manzione è quella di calcolare e campionare appunto le emissioni in atmosfera, sui luoghi di lavoro, rumore e vibrazioni e campionare acque, terreni e rifiuti. Lo studio che ho seguito all'Università dell'Insubria mi ha dato un bagaglio culturale abbastanza ampio e generale, ma è dato anche nello specifico. Infatti grazie alla tesi che ho svolto ho potuto imparare e assimilare quelli che sono i principali concetti dell'igiene occupazionale ed ambientale. Quindi consiglio questo tipo di percorso perché appunto riesce a fornire quelli che sono i concetti sia base che specialistici.